Dal 21 al 27 novembre torna a Firenze la seconda edizione del Diffrazioni Festival, protagoniste le arti multimediali con 130 opere di 150 artisti internazionali, tra performance, concerti, installazioni, incontri e masterclass. Una vera e propria rassegna dei linguaggi del contemporaneo, con opere di artisti del calibro di Bill Viola, Marina Abramovic e Namjoon Pike, tanti giovani talenti che proporranno opere pensate appositamente per il festival e una mossa sugli strumenti dedicata a Pietro Grossi, nei 50 anni dalla nascita della prima cattedra di musica elettronica a Firenze. Abbiamo degli eventi speciali che vanno dai 50 anni di musica elettronica al Conservatorio di Firenze, che è stato il primo conservatorio in Italia a promuovere questo tipo di studio e quindi abbiamo realizzato un'installazione dove esponiamo le macchine storiche, la strumentazione che ha consentito questa ricerca, ma ricordo che queste cose quando sono nate nel 65-66 erano proprio, cioè insomma non esisteva l'idea della musica elettronica, non esisteva internet, quindi qui sono nate delle esperienze che poi hanno in qualche modo influenzato anche la cultura e l'estetica musicale non soltanto italiana ma anche internazionale. Il festival, organizzato dal Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, si svolgerà in maniera itinerante per la città. Gli eventi si terranno tra la Palazzina Reale, Palazzo Rosselli del Turco, il Museo di Casa Martelli, Palazzo Medici Riccardi e le murate. La novità è che la Palazzina viene aperta alla musica e a questa musica per la prima volta. È proprio questo che ha entusiasmato l'Ordine degli Architetti attraverso la sua fondazione, il fatto che si potesse ospitare un momento di innovazione, cioè di verifica delle innovazioni su tematiche completamente diverse da quelle che sono le nostre solite, ma che possono dialogare senz'altro. Tra gli eventi si segnalano la proiezione dell'opera The Passing di Bill Viola del 1991, il video film concert di Nam June Paik e Jude Yalcult, irriverente critica alla cultura di massa con l'utilizzo di tecniche pionieristiche di elaborazione elettronica delle immagini, e SSS di Marina Abramovic del 1989, racconto biografico dei momenti importanti della vita dell'artista. All'interno di Diffrazioni, inoltre, Esther Lamnek condurrà dal 23 al 26 novembre una masterclass, un laboratorio, con un gruppo di musicisti e studenti, guidandoli a suonare insieme, interagendo con strutture musicali elettroniche e visual, realizzando improvvisazioni dove immagini e musica dal vivo e registrata diverranno un tutt'uno. Tutti gli eventi del festival sono a ingresso libero, l'accesso alle masterclass e agli workshop è riservato agli iscritti. Per ulteriori informazioni www.diffrazionifestival.com Quest'anno si parte, idealmente, con un grande percorso, dalla Palazzina Reale alla stazione di Santa Maria Novella, e si attraversa la città, attraverso Casa Martelli e altri luoghi importanti, come Villa Favarde, che è la nostra sede di staccata, le murate, tutti luoghi che daranno un'impronta particolare, perché si insiste in luoghi storici, ma con la modernità e con la divulgazione di quelle che sono le nuove tecniche, le nuove idee dei nostri studenti e di tantissimi artisti che verranno da tutte le parti del mondo.